L'emergenza Covid in casa Nissa finalmente è finita. I tamponi molecolari hanno rivelato che i giocatori e staff tecnico della squadra bianco scudata sono tutti negativi. Pertanto oggi pomeriggio sono ripresi a pieno regime gli allenamenti della prima squadra agli ordini del tecnico Angelo Bognanni. Domenica prossima la squadra nissena sarà dunque regolarmente in campo per la sfida di campionato contro il Cus Palermo e dovrà recuperare tre partite sulla carta alla portata con Monreale, Castellammare e Casteltermini che in caso di vittorie potrebbero proiettare la squadra bianco scudata al terzo posto della classifica generale visti anche i passi falsi di alcuni avversari nel periodo in cui la Nissa non ha giocato. Insomma una grande opportunità playoff per la squadra di Angelo Bognanni. I giocatori che hanno dovuto combattere il virus non hanno avuto problemi fisici per cui riprendendo gli allenamenti a pieno regime già domenica prossima al Virciglio di Campofranco potranno affrontare nel migliore dei modi il Cus Palermo, una squadra imbottita di giovani che naviga in fondo alla classifica ma che non bisogna sottovalutare.